L'amministrazione comunale e la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento presentano l'incarico di responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative al regista e produttore Marco Savatteri. La Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento Anche la cultura, anche l'arte può essere una professione, un lavoro ed è nostra intenzione di attivare e avviare delle attività innovative, collaterali, parallele a quelle tradizionali e ci siamo chiesti chi potesse darci una mano e chi potessimo noi aiutare a offrire attività innovative ed aggrigento e la risposta è stata immediata. Marco Savatteri e quindi Marco Savatteri che sarà il nostro responsabile e coordinatore di queste attività culturali innovative si occuperà di tutta una serie di attività. Intanto istituzionalizzeremo la giornata della celebrazione del teatro che ricorrerà nel mese di aprile con una notte bianca che si svolgerà il 30 di aprile, sarà uno spettacolo immersivo, itinerante. L'obiettivo sarà quello di rendere l'utilizzo della cultura il più possibile quotidiano e di aprirsi a tutte le età della nostra cittadinanza e ovviamente dei visitatori e dei turisti. La prima attività che presenteremo sarà questa sorta di notte bianca per celebrare i 144 anni di questo meraviglioso e storico teatro all'insegna di una visita teatralizzata sui generis in cui gli spettatori potranno muoversi in luoghi che di solito non sono adibiti al pubblico del teatro ma semplicemente agli attori o alle maestranze o ai tecnici e quindi scopriremo gli anfratti di questa bellissima struttura che è stata ricavata da una pietra, la pietra renaria di Egrigento è stata scavata all'interno di una montagna di tufo e conosceremo vari personaggi storici che negli anni hanno vivificato questo teatro ed è come se fossero ancora intrappolati in questa meraviglia. Stiamo cercando di creare l'unione tra Fondazione Teatro Pirandello, Fondazione Egrigento Capitale della Cultura e Lente Parco quindi immaginate per un attimo tutti questi turisti che arrivano ad Egrigento, passano per la casa di Pirandello giungono alla Valle dei Tempi, salgono per il Colle di Girgenti, la Biblioteca Lucchesiana, la Caterale scendono per Santo Spirito, arrivano al Palazzo di San Domenico e vengono accolti da Marco Savetteri e dai suoi artisti nel Teatro Pirandello. Quindi un bellissimo progetto che spero che possa andare avanti per il 2025 quando Egrigento sarà il capitale della cultura. Oggi è la giornata di Marco Savetteri. Marco Savetteri che riceve un riconoscimento per quello che ha fatto e continua a fare nella città di Egrigento e soprattutto per le sue capacità e per la sua professionalità viene premiato dalla nostra fondazione, dalla nostra fondazione agrigentina del Teatro Pirandello affinché possa collaborare e mettere in campo quelle che sono le sue qualità. Una giornata importante per il Teatro Pirandello. Oggi si formalizza e si presenta alla città, alla stampa la nomina di Marco Savetteri come importante figura chiave del teatro che attiverà tutta una serie di iniziative di teatro sperimentale e quindi di teatro innovativo che possa arricchire ancora la nostra stagione teatrale e il nostro teatro e il nostro cammino verso l'agrigento capitale terreno della cultura 2025.